Mamma di Grazie! Una mamma italiana! Sono Barbara Semeraro, ho 45 anni, abito a Forlì. Sono mamma di Elisa, 19 anni, e Mattia, 15. Nella vita di tutti i giorni lavoro in banca, sono un gestore imprese e come hobby ho lo sport in quanto ho giocato a padacanestro, seguo il basket che è una delle mie grandi passioni, gioco a calcio nella Nazionale di Mismam italiana e ho tante altre passioni come quella dei libri, leggo molto l'arte e anche l'opera lirica. Sono una persona molto dinamica, ho mille interessi, faccio tante cose e riesco a conciliarle anche grazie alla mia famiglia che mi supporta, al mio compagno Pierpaolo che oltre a sopportarmi mi supporta in tutte le mie attività. Mi definisco appunto una persona molto dinamica, vulcanica, ogni cosa che faccio mi piace farla al meglio. Sono una persona che cura molto l'aspetto esteriore, fin da quando ero bambina, ragazzina, ho sempre tenuto tanto al mio aspetto, quindi alla cura dei capelli, alla cura della persona. Cerco sempre di essere in ordine, quindi con i capelli, con il viso, con le mani, i piedi, qualsiasi cosa. Anche il lavoro che faccio, lavorando appunto a contatto con le persone, mi porta a curare con l'aspetto estetico, vado in palestra, sono sportiva, cerco di mantenermi anche usando prodotti di bellezza per la cura del corpo, del viso e insomma del mio aspetto estetico. L'aspetto interiore va anche quello curato perché ritengo che essere in pace con se stessa ed essere tranquilla diciamo nella vita porta ad affrontare tutto con un sorriso, come faccio io. Ho deciso di partecipare a Miss Mama Italiana perché ritengo sia un concorso innanzitutto pulito, con delle persone che lo organizzano serie e nello stesso tempo perché penso che noi mamme possiamo ancora metterci in gioco a qualsiasi età, la mamma è bella da giovane ma è bella anche da meno giovane, per cui il fatto di mettersi in gioco è una cosa che mi stimola, che mi affascina e perché no anche per dimostrare ai miei figli che la mamma è anche brava perché appunto con la prova di abilità si dimostra anche che le mamme sono anche brave oltre che belle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Votatemi perché sono una mamma dinamica ma nello stesso tempo semplice, una mamma che comunque strapperà tutto un sorriso. Un caloroso abbraccio e un saluto a tutti.